Un pineto devastante in casa che continua a cullare il sogno di centrare i play-off alla prima stagione tra i professionisti. Nel posticipo della dodicesima giornata i biancazzurri di Amaolo battono la fermana di Protti e salgono al settimo posto in classifica con 17 punti. Un'ottima media per la neopromossa che dalla prossima gara interna tornerà a giocare al Mariani Pavone dopo l'esilio a Pescara. Gara equilibrata per almeno mezz'ora e gradevole tra due formazioni ben messe in campo dai due tecnici. Al quinto iniziativa dei Canarini Marchigiani, corner di Giandonato, dalle retrovie arriva Calderoni il cui sinistro si perde alto sopra la traversa. Al diciottesimo Evangelisti non trova lo specchio della porta su conclusione dal vertice destro dell'area di rigore, pallone sul fondo. Fermana pericolosa, Montini al centro per Curatolo che viene anticipato da Evangelisti. Sul rovesciamento di fronte, Volpicelli e Gambale mettono i brividi ai gialloblu. Spedalieri respinge il tiro del primo mentre Gasbarro salva la fermana nella seconda conclusione. Sul corner successivo, Volpicelli pesca in area a Ciacchir che di testa sfiora la traversa. I Canarini provano a spingere al trentaseiesimo, Tilli cerca spazio in area. Il suo cross al centro viene allontanato dalla difesa del Pineto. Tonti respinge con i pugni un calcio piazzato di Giandonato dal lato corto dell'area di rigore. Incredibile chance per la fermana, Curatolo in scivolata al volo per poco non batte Tonti che riesce a cavarsela in due tempi. Al quarantunesimo è il Pineto a rendersi pericoloso su ripartenza, Furlanetto salva su Ciacchir. Tante emozioni dopo i primi 45 minuti ma porte ancora inviolate. Nella ripresa la gara inizia con buoni ritmi. Il gol arriva poco prima del quarto d'ora e il solito Volpicelli a regalare il vantaggio ai Biancazzurri con una bordata da fuori area. Una prodezza balistica che merita di essere rivista. I marchigiani provano a riorganizzarsi ma la rete dei padroni di casa ha frastornato l'undici di Protti. A cinque dal termine il Pineto raddoppia con Ciacchir su azione di ripartenza. L'attaccante del Pineto prima si fa respingere il tiro da Gasbarro poi riprende il pallone, tira di nuovo e ancora il difensore della Fermana devia la palla sulla quale lo stesso Ciacchir si avventa di testa mettendo in rete. Nella circostanza l'estremo ospite rimasto a terra chiederà una carica che però non sembra esserci. Al Pineto i tre punti, alla Fermana resta l'ultimo posto in classifica e la zona salvezza è sempre più distante.